Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special in questo nuovo video Ieri abbiamo parlato di Piontek, un attaccante che si sta rivelando un buon acquisto al fantacalcio a prescindere dal costo, nel 90% dei casi è stato pagato pochissimo, soprattutto nelle aste pre-campionato in quelle invece fatte successivamente, dopo le prime giornate, è stato rialzato di più perché c'era già una buona aspettativa su di lui, aveva fatto già intravedere qualcosa di buono oggi invece parliamo di Zeich, per farlo sono andato anche a prendere delle statistiche su OneFootball per, diciamo, avere una panoramica maggiore, per scaricare l'app OneFootball trovate il link in descrizione è gratis, vi aggiorno su tutto il mondo del calcio, proprio in diretta vi mandandovi anche delle notizie delle notifiche per informazioni importanti e ovviamente è anche utile per quando bisogna schierare la formazione per leggere anche articoli riguardanti il fantacalcio ma parliamo di Zeich perché? Perché Zeich è un giocatore che a me piace molto ve ne ho parlato prima del campionato ve l'ho consigliato come colpo low cost infatti molti di voi l'hanno preso io l'ho preso praticamente in quasi tutti i fantacalcio in quello in cui non l'ho preso è semplicemente perché è andato via a un prezzo esagerato perché magari appunto ormai si conosceva erano aste fatte anche dopo il precampionato per quanto riguarda questo giocatore ragazzi ha 24 anni è sloveno ed è un trequartista puro proprio un trequartista di quelli puri che ha dei piedi fantastici non c'è bisogno che ormai ve lo presenti perché avete forse iniziato a conoscerlo per quanto riguarda queste prime giornate ha fatto un assist e zero gol ha una precisione di passaggi per il momento di 81% in queste prime tre partite toccando per partite a 77 palloni che non sono pochi inoltre vince il 50% dei contrasti che non è male per un giocatore comunque offensivo qual è la cosa però di cui vi poi voglio anche parlare del fatto che abbia colpito già due legni cioè è andato vicinissimo comunque a portare il più tre già per due volte saremmo qui a parlare di un giocatore che ha con due gol in tre partite e questo avrebbe fatto cambiare cioè poteva far cambiare di molto l'attenzione su questo giocatore invece il fatto che abbia colpito questi legni sì se ne parla bene ma non di un nuovo fenomeno o non di come se ne parlava ad esempio di Benassi che ha fatto questi tre gol in queste due partite quindi il mio consiglio è se avete la possibilità ancora di prenderlo buttatevi un occhio e provate a portarlo a casa perché è un giocatore che si fa vedere molto che riesce anche a dribblare ogni tanto e inserirsi in area e ha dei piedi fantastici sia sul calcio da fermo sia su azione può essere davvero pericoloso e trovare dei bonus anche in partite complicate per l'Empoli anche quando magari l'Empoli giochera con squadre molto più blasonate potrebbe comunque portare dei bonus che siano degli assist o che siano dei gol a me piace tantissimo è un giocatore che ho provato a prendere in tutti i fan da calcio perché l'anno scorso Genesia Reb aveva fatto veramente di tutto e di più bonus a go go però ovviamente per il fan da calcio ci serve quest'anno quindi io ho buone aspettative su questo giocatore e credo non mi deluderà non mi aspetto ovviamente vada per forza in doppia cifra però mi aspetto un alto rendimento in termini di bonus alternando con le assist e anche buone prestazioni perché finora non mi pare abbia preso brutti voti perché comunque fa sempre delle buone prestazioni vedremo come si comporterà questa stagione anzi voglio un vostro pronostico avrà un rendimento da top da semi top o da diciamo sconosciuto da piccola Lega cioè da piccolo giocatore che magari non farà grandi cose quest'anno ditemi il vostro parere qui sotto nei commenti vi lascio anche un sondaggio come appunto anche ieri sono curioso di sapere il vostro parere su questo giocatore se avete dato un'occhiata oppure lo avete tralasciato se avete ragazzi la possibilità di magari con un'asse di riparazione o con degli scambi di andarlo a prendere fidatevi andate a prendere questo giocatore detto questo ragazzi io vi ringrazio per la visione voglio sapere il vostro parere vi ricordo il link in descrizione per i miei social e anche ovviamente per scaricare l'app 1 football inoltre vi ricordo di iscrivervi anche alla nostra Lega la Carmi Specials League su Fanta Paz e di lasciare un bel like ragazzi se volete anche altri video consigli su giocatori magari che potrebbero fare una buona annata o magari su altri giocatori che invece potrebbero deludere detto questo ci vediamo con un prossimo video o una live magari stasera vediamo se ci riesco voi lasciate un like per spronarmi a farla e alla prossima ragazzi ciao